Le 9 e 26 minuti, eccoci qui ben ritrovati su Just Today, grazie ancora Don Nicola per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi, un piacere. Grazie. Allora io partirei con una notizia che è alla nostra regia, è una notizia dell'avvenire di qualche settimana fa del giorno dell'Immacolata che in realtà al di là della notizia sulla foto, eccola la puoi vedere, del Santo Padre che si è commosso durante il giorno dell'Immacolata Concezione nella solita, nella tradizionale cerimonia di omaggio all'Immacolata Concezione a Roma, si è commosso pensando all'Ucraina, un ruolo in realtà del Santo Padre sin dal primo giorno del conflitto armato, qual è l'effetto che ha fatto questa foto? È l'effetto della commozione del Santo Padre? Beh sicuramente sappiamo che Papa Francesco è ben amato da tutto il mondo, anche coloro che non sono cristiani, cattodici, lo amano in maniera indistinta. Questa foto si è fatto comunque il giro dei social, però ecco al di là del social, del contenuto social, ecco Papa Francesco comunque sta attraversando un periodo abbastanza difficile, no? dovuto comunque alle sue condizioni di salute, ma ecco questo non deve in qualche modo destarci preoccupazione, ma soprattutto è collegato a quello che sta avvenendo nel mondo, alla guerra, lui che è un combattente, possiamo dire, della pace, quindi no? Quest'anno veramente tutta l'umanità ha sofferto e sta soffrendo tuttora, no? Per questa guerra, per questo conflitto che in qualche modo si sta propagando, ecco vogliamo ecco veramente stargli vicino, ma soprattutto ecco vivere questo Natale con questo spirito proprio ecco di pace, ecco di preghiera sulla pace, ecco lui stesso lo vuole, lui stesso lo ha detto nel discorso che ha fatto l'8 dicembre, ma soprattutto ecco come cristiani non siamo tenuti proprio a richiamare ecco alla pace, a ritornare alla pace. E in che modo possiamo celebrare queste festività natalizie che sono sicuramente un momento di gioia, la nascita di Gesù bambino, ecco come si dice, l'abbiamo detto anche con noi, i nostri delle spettatori che ci mandano magari le foto dei presepi, come possiamo celebrare con gioia a questo momento oppure in realtà ricordando da cristiani, da cattolici, questo momento di guerra, di sofferenza che stanno passando altri esseri umani? Beh sicuramente sarà un po' difficile, no? Sono emozioni contrastanti, no? Quello della pace, o meglio quello della gioia, no? Del Natale e quello della guerra che sta ancora, è ancora in corso, ma sicuramente ecco possiamo fare un accorato appello, appello anzitutto al nostro cuore, no? Alla nostra anima, pregando insistentemente ancora una volta per la pace, no? Papa Francesco ci dice, il nostro Vescovo, i nostri Vescovi, no? Ce lo dicono sempre, no? Di pregare incessantemente per la pace, perché questa pace anzitutto avvenga all'interno del nostro cuore, è da lì che parte il tutto, no? Da lì che in qualche modo poi parte la scintilla della pace, è anzitutto il nostro cuore, poi ecco, negli ambienti in cui viviamo, all'inizio ecco di questa guerra, di questo conflitto, tante persone si sono in qualche modo messe a disposizione, anche concretamente con degli aiuti fattivi, però io penso che l'impegno più concreto, no? Che possiamo avere in questo tempo, anche in previsione, no? Anche in queste feste di Natale è proprio la preghiera, no? Che è l'impegno più potente, no? Padre Pio stesso ci dicevano che la preghiera è la prima cosa, no? La prima arma, no? Che dovremmo avere, anche se di armi forse non dovremmo parlare, ecco, però è il primo antidoto, possiamo dire, contro la guerra e contro l'odio. Tra l'altro andiamo, se la regia ci aiuta, andiamo proprio con la webcam sul Sagrato di Piazza San Pietro, appunto questa piazza che si sta preparando, soprattutto la basica di San Pietro, si sta preparando a quella che è la veglia di questa sera, anche se in realtà tutti noi sappiamo la veglia delle veglie in realtà è quella della notte di Pasqua, ma è sicuramente un momento importante anche quello che ci apprestiamo a vivere questa sera e poi domani mattina per quella che sarà la benedizione urbi e torbi da parte del Santo Padre, la città di Roma e al mondo. Quali saranno, secondo te, i messaggi che saranno utilizzati dal Santo Padre domani? Beh, io penso che i messaggi utilizzati dal Santo Padre, che utilizzerà il Santo Padre, anzitutto ecco quello della pace, ma soprattutto quello della gioia e della luce, che sono un po' le tematiche principali di questo Natale. Dio si è fatto uomo, questo è il messaggio che noi siamo chiamati come cristiani, ma come uomini e donne di oggi, a riscoprire sempre di più perché celebrare il Natale ogni anno, proprio per capire a fondo e nel nostro cuore, nel nostro intimo, questo mistero, cioè di questo Dio che si è fatto uomo, che si è fatto carne. Sicuramente Papa Francesco parlera proprio di questo, di questo Dio che poteva scegliere un altro posto, invece è venuto a nascere, a incarnarsi e a stare nel grembo di una donna, di una donna come tante altre donne. Ed è bello che la festa delle feste è quella della Pasqua, in cui ricordiamo il mistero proprio di Gesù, della passione, morte e risurrezione, però il Natale è anche una festa molto importante per tutta l'umanità, perché è questa luce che viene ancora una volta a risplendere, nonostante tutti i disastri, possiamo dire, che l'uomo compie, il male che l'uomo compie, ma questa luce che ancora una volta viene ad abitare all'interno dell'oscurità. Questo è il messaggio della luce. Don Nicola, Don Francesco Romanchi ha parlato di un'altra povertà, oltre alla povertà materiale c'è spesso quella che è la povertà dello spirito, una povertà immateriale. Quale può essere allora il regalo di Natale per queste persone? Il regalo di Natale per queste persone sicuramente può essere la vicinanza, Papa Francesco pure ci parla tanto di vicinanza, che è una forma sì di affetto, ma è sicuramente cura, cura della prossimità, attenzione ai piccoli dettagli, ai particolari dell'altro. Io penso che, come ci ha ricordato Don Francesco, ma anche il Vangelo stesso ce lo ricorda, che la povertà non è solamente povertà materiale e quindi tutti siamo poveri, bisognosi di vicinanza da parte di Dio, bisognosi comunque di gesti di attenzione, di amore da parte di Dio. In questi giorni, non ti nascondono nel prepararmi, ma soprattutto nel confessare tante persone che in qualche modo vogliono vivere le feste in maniera in grazia di Dio, dicono loro, veramente ci si accorge di un estremo bisogno di Dio. Dato che diciamo con Giovanni che Dio è amore, tutti hanno bisogno dell'amore, tutti hanno bisogno di questa prossimità. Quindi io penso che il Natale sarebbe più bello se tutti potessimo sentirci bisognosi di questo Dio, di questo Dio che in qualche modo viene ad amarci e non fa nient'altro questo Dio, viene sulla terra per amarci. Grazie all'amore che poi ci salveremo, grazie all'amore che in qualche modo saremo più liberi, saremo più felici, più gioiosi. Quindi anche in un mondo che è pieno di tante cose che si dicono sul Natale, ma dimenticano la cosa essenziale. Tante pubblicità parlano del Natale, ma dimenticano che Gesù è venuto il Natale di Gesù. Io penso che sia proprio questa la sfida di oggi, per noi cristiani ma per noi uomini e donne, perché quando si parla di cristianità si parla dell'universalità e quindi si parla di tanti uomini e donne. Quindi io penso che tutti quanti siamo poveri, tutti quanti siamo bisognosi di questa vicinanza. Queste persone è necessaria questa vicinanza di Dio. Tutti possiamo avere un regalo di Natale sotto questo aspetto. Sì, sì. Don Nicola, ci fermiamo solo qualche minuto per un altro break pubblicitario e poi torniamo ancora qui su Padre Pio TV. D'accordo. Le 9.42 minuti, in realtà quasi già è 43. Grazie per essere ancora qui con noi. Grazie Don Nicola per essere qui con noi. Qual è il messaggio che avremo per questo Natale da quelle che saranno le letture, ma soprattutto da quella che sarà la parola del Signore, il Vangelo? Allora, intanto è bello il Natale che, come abbiamo detto, non è solamente un giorno il Natale, ma sono otto giorni pieni di luce, di festa. È un po' come la Pasqua, un po' come le feste importanti nel calendario liturgico. In realtà ci fanno rivivere per otto giorni. Perché questo? Perché questa scelta? Perché dobbiamo ritornare sempre su questo mistero che in qualche modo diventa incomprensibile. Però ci possiamo avvicinare a questo grande mistero. Il giorno di Natale è fatto principalmente da quattro messe che iniziano già nel pomeriggio del 24, quindi della vigilia, la messa vigiliare, in cui ricordiamo la genealogia di Gesù, dal Vangelo secondo Matteo, quindi questa serie di nomi nel quale poi c'è anche il nome di Gesù. Poi c'è il Vangelo di Luca nella notte di Natale, quello un po' più, possiamo dire, da cronistoria, un po' storico. E poi c'è il Vangelo dell'Aurora, quindi nella prima mattinata del giorno di Natale, che è il Vangelo in qualche modo che ci ricorda in qualche modo il Vangelo di Marco, che ci ricorda l'annuncio dei pastori della grotta, che è il primo annuncio che abbiamo. E poi c'è il Vangelo in qualche modo del giorno, che è il Vangelo un po' legato, il Vangelo di Giovanni, sul verbo che si fa carne, come abbiamo ricordato prima della pubblicità. Il verbo che si fa carne è bene ad abitare in mezzo a noi, anche se le tenebre non l'hanno accolto, però lui ha voluto nascere, nonostante la nostra non accoglienza, che in realtà è sempre attuale questa non accoglienza da parte di questo verbo. Possiamo dire che questa parola divina che si fa concreta, si fa palpabile, diventa percepibile, si può toccare con le nostre mani, è questo il grande mistero. Andremo a celebrare in questa festa, in questo giorno, che come dicevo non finisce il 25, ma finisce dopo un ottavario. In realtà, secondo la tradizione anche di Costantinopoli orientale, in realtà finisce anche l'8 gennaio con il battesimo di Gesù, perché è lì che si compie questa manifestazione visibile del Signore, con il prodigio e con il battesimo di Gesù. Don Nicola, qual è nella tua esperienza di fede il rapporto con Padre Pio, con San Pio? Beh, innanzitutto, ecco, io ho come secondo nome Pio, quindi non tutti lo sanno, però ecco, come secondo nome Pio, e questo perché? Perché legato alla mia nascita, sono nato a San Giovanni Rotondo, in ospedale, Casa Sollievo, e mia madre, ecco, mi ha voluto dare questo secondo nome proprio perché ha visto grandi cose in ospedale, ha visto comunque come la trattavano, anche durante il parto, i medici, gli operatori sanitari e gli infermieri. E quindi, grazie a questo, ecco, è rimasta molto colpita. Prima cosa. Poi seconda cosa perché sono nato comunque nel periodo della festa, intorno alla festa di San Pio, no, tra San Pio e San Francesco. E quindi, no, pover, questo ha voluto darmi come secondo nome Pio. Nel corso del tempo, ecco, questa cosa non ci facevo tanto caso. Però ecco, quando poi il Signore, no, mi ha fatto capire, grazie a tanti segni forti, no, della sua presenza, questa strada che dovevo intraprendere, quindi attraverso la chiamata a diventare sacerdote. In realtà, ecco, poi man mano che ho chiesto anche l'intercessione a Padre Pio, no, perché mi aiutasse in questa strada. Non a caso, ecco, da qualche anno, da un anno, ecco, che sono qui a San Giovanni Rotondo come sacerdote, ecco, in realtà, tanto spesso, ecco, mi affido all'intercessione di Padre Pio, no, perché veramente lui è stato un grande, ecco, sacerdote, anzitutto, no, ma una grande persona di fede e di preghiera soprattutto, no, silenziosa, umile. In realtà, devo essere sincero, la sto riscoprendo sempre di più questa figura, non, anche indirettamente, attraverso l'esperienza concreta delle persone, no, del popolo di Dio, di San Giovanni Rotondo, che ha avuto un'esperienza diretta con questo santo. E quindi, no, grazie a quello che mi raccontano, grazie a coloro che magari erano anche i primi medici, no, i primi infermieri dell'ospedale Casa Sollievo che mi hanno raccontato certe cose, no, io veramente rimango sempre più sorpreso e meravigliato di questo santo, di questa figura molto povera, possiamo dire, no, di umile origini, ma che si è lasciato illuminare dalla grazia di Dio, no, durante la sua vita. Che in qualche modo ha comunque impresso un sigillo, ecco, anche sul tuo percorso di fede. Sì, sì. Io partirei adesso con il messaggio di padre Franco Moscone, nostro arcivesco, lo possiamo mandare anche in grafica attraverso la regia e sul sito della nostra arcidiocesi. Padre Franco Moscone ci ha chiesto di educare alla speranza, ha detto abbiamo bisogno di disarmare e non di armare. In sintesi, qual è stato questo messaggio? Che cosa possiamo fare per raccogliere questo messaggio? Sappiamo che un po' il nostro caro vescovo, no, caro padre Franco, ecco, ci tiene molto, no, alla pace, ma soprattutto ci tiene molto, ecco, un po' la stregua, possiamo dire, di Papa Francesco, no, ad educarci alla pace. E lo sto facendo veramente oltre, ecco, con la preghiera, con l'impegno, ma anche con le parole, no, con i contenuti, sappiamo benissimo da quando, ecco, ha messo il piede nella nostra arcidiocesi, con tante cose che sono successe. Io penso che, ecco, il nostro caro vescovo all'interno comunque di questo sinodo, no, che quest'anno in qualche modo abbiamo iniziato, vuole, ecco, l'invito è quello di educarci alla speranza, alla speranza nel senso che non dobbiamo, ecco, intristirci per quello che ascoltiamo, per quello che viviamo, per quello che sono, ecco, le notizie anche tante volte che ci lasciano un po', ecco, sgomenti, ma dobbiamo, ecco, educarci alla speranza perché quella speranza rinasca sempre dal nostro cuore, no. Noi sappiamo che delle tre virtù, ecco, la speranza è quella che ci porta avanti, no, quella che ci fa vedere, ecco, cose che non riusciamo a vedere attualmente. Ecco, il nostro vescovo, penso che, ecco, voglia dirci proprio questo. Fare come, no, come educarci alla speranza? Attraverso gesti concreti, attraverso opere di giustizia, no, ci dice lui, e di pace, o quindi con una generosità sfondata, no, ci dice lui. Quindi con questa generosità che deve attraversare tutto il nostro essere, la nostra persona, la nostra mente, il nostro cuore, ma in qualche modo deve essere propagata, deve essere in qualche modo trasmessa agli altri, anzitutto ai nostri vicini, a chi è prossimo, no, e poi a tutto il mondo, no. E questo è fatto però, ecco, di gesti concreti, no, di gesti piccoli, semplici, ecco, gesti che sono efficaci, gesti che sono importanti, no. Non possiamo fare a meno noi cristiani di questi gesti. Grazie, grazie Don Nicola per essere stato con noi, grazie ai telespettatori che anche oggi ci hanno seguito qui su Padre Pio TV e l'augurio a te Don Nicola e a tutti voi che ci avete seguito per un buon Natale. Noi, come sempre, torniamo puntuali lunedì per una nuova puntata di Just Today. Buona domenica a tutti e soprattutto buon Natale. Buon Natale.